Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria da me e dalla mia polo ufficiale del team KTM del Moto Mondiale, della MotoGP insomma, un regalino che mi hanno fatto mio nipote, ho un nipotino che sta iniziando a correre le gare di motocross è un bambino che sta muovendo i primi passi del motocross, è tifosissimo di Tony Cairoli e questa è per il mio nipotino Edoardo, detta com'è, va bene signori, scusate allora, 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 con questo video finalmente torniamo a parlare di quello per cui è nato questo canale ovvero sia fare recensioni di libri di storia inerenti a temi collegati alla seconda guerra mondiale e il Corriere della Sera ha iniziato da qualche settimana la pubblicazione di un'interessante collana intitolata Dittature e totalitarismi nella storia e il secondo volume di questa collana del Corriere della Sera è questo libro di Giorgio Galli intitolato Hitler e il Nazismo Magico un libro che ha, se vogliamo, inaugurato un intero filone di studi ci dice Galli che quelle occultiste non erano semplici infiltrazioni nel Nazismo ma una cultura intessuta di fantastoria e fantageografia Tule era la mitica Atlantide, patria degli Iperborei al centro della quale stava un potere occulto trasmesso da iniziati e Hitler poteva ritenersi erede di questo potere l'introduzione che vi leggo ci dice perché Hitler attaccò la Polonia convinto che l'Inghilterra non sarebbe intervenuta perché Hess andò in Inghilterra alla vigilia dell'attacco all'Unione Sovietica perché questa aggressione che fu la premessa della catastrofe quando lo stesso Hitler aveva affermato dal Mein Kampf in poi che mai si sarebbe impegnato in quella guerra su due fronti che già era accostata alla Germania la sconfitta nella Prima Guerra Mondiale le risposte a questi enigmi vanno cercate, come sostiene Giorgio Galli in quella cultura esoterica intrisa di magia, occultismo, alchimia e astrologia che la rivoluzione scientifica del Seicento e l'illuminismo non erano riusciti a soffocare e che riappare come un fiume carsico nella storia d'Europa in Germania, ma anche in Francia, in Russia e nell'Inghilterra delle società segrete Hitler si riteneva infallibile e invulnerabile proprio perché era un iniziato tra gli iniziati depositario di un antico potere occulto allora, io ammetto candidamente e senza vergogna alcuna di non essere l'uomo più adatto a parlare di certe cose perché? Perché sono un bestialista materialistico pratico sì, sono un bieco materialista sono un uomo che non crede in livelli superiori che non credo in realtà alternative non credo che, come dire, ci sia un qualche cosa di ulteriore rispetto alla realtà oggettiva l'esoterismo, la magia, il misticismo, eccetera, eccetera, eccetera non sono cose che fanno per me e lo ammetto senza alcun problema lo ammetto senza alcuna vergogna quindi quello che vi dico a proposito del libro di Galli va preso in base ai limiti delle mie conoscenze ai limiti delle mie cognizioni va relazionato al fatto che veramente io non credo all'esistenza di certe cose come invece sicuramente credevano Hitler e i suoi seguaci il legame tra Hitler, il misticismo, la magia, l'occultismo, l'esoterismo è, diciamo, cosa ben nota agli storici si sa è noto che Hitler aveva legami in ambienti esoterici e occultisti è noto che i circoli, se vogliamo, ultranazionalisti tedeschi a cui Hitler facevano riferimento erano imbevuti del mito, della mitologia germanica insomma, insomma, si trattava di come dire, un circolo una cerchia di persone che si interessavano e praticavano queste cose, questi rituali, questi riti esoterici che avevano questi culti eterodossi che, insomma, erano uomini che credevano ripeto, profondamente, nella magia, nell'occultismo nell'astrologia, nel paganesimo insomma, un mischione di cose a dir poco, spesso e volentieri incongrue e in contraddizione fra di loro ma, ripeto, stiamo parlando di stiamo parlando di pseudo-religione cioè, il nazismo volle farsi religione il culto del nazismo il nazismo era una religione in tutto e per tutto poco da dire, poco da fare come dire, Galli spiega i legami tra i circoli esoterici tedeschi tra le società segrete esoteriche tedesche che introdussero, se vogliamo, Hitler nei cosiddetti salotti buoni ok? che dire ripeto, non sono la persona più adatta a parlarne perché queste cose l'occulto, l'esoterismo, eccetera, eccetera non rientrano tra i miei interessi diciamo che me ne sono interessato per vie traverse quando si è trattato di parlare di storia per esempio, io molti anni fa mi sono letto un libro curioso interessante contraddittorio ma stimolante cioè, che si intitolava il mattino dei maghi scritto da Powells e Bergy e fu la prima volta in cui lessi qualche cosa a proposito dei collegamenti tra il nazismo e l'occulto la magia e l'esoterismo sia chiaro il mattino dei maghi non è un libro di storia e non pretende di esserlo è un libro che ripeto si può leggere è di molto godibile lettura ma da qui a prenderlo per buono ce ne vuole però ripeto quel libro è interessante perché spiega alcune delle teorie magico-esoteriche del nazismo ci parla fu lì sul mattino dei maghi che io seppi chi era Wolfram Sievers il capo della SS AENERB della società per le eredità ancestrali che si occupava di setacciare nel mondo le radici della cultura germanica fu grazie al mattino dei maghi ripeto libro che non è assolutamente utilizzabile come libro di storia diciamoci a verità ma che mi ha fornito quando l'ho lessi per curiosità alcuni stimoli a studiare i collegamenti tra l'occultismo e il nazismo legami che ci furono se vi ricordate io diverso tempo fa ho recensito qua sul canale un libro la biografia di Eric Jan Hanusen il veggente ebreo convertitosi al protestantesimo il suo vero nome era Chaim Herzog Steinschneider se non ricordo male che si convertì cioè che si costruì l'identità di un nobile conte danese che si chiamava Eric Jan Janusen che addirittura addirittura fu compagno d'armi di Hitler durante la prima guerra mondiale e che fu brutalmente assassinato dalle dalle gestapo che fu brutalmente assassinato dalle gestapo dopo l'incendio del Reichstag perché aveva fatto delle profezie che prevedevano una tragica fine per Hitler ok allora quello è un'altra dimostrazione del collegamento dell'interesse che il nazismo aveva per l'occulto e per le conoscenze magiche e mistiche Galli fa uno studio come dire interessante e come dire esteso su questi collegamenti ripeto io non sono la persona più adatta a parlarne perché sono ateo non lo so sicuramente agnostico sicuramente non sono religioso sicuramente non credo in livelli superiori sicuramente io non so se c'è un al di là e non ho interesse a scoprirlo se non il più tardi possibile abbiate pazienza ecco ma il libro di Galli va comunque letto perché fornisce un'interessante chiave di lettura sulla personalità sul carattere sulla mentalità di Hitler e sulle radici culturali del nazismo insomma fantastoria fantageografia fantareligione idee balzane basate sul nulla cioè le le mistiche ricerche della superiorità della razza ariana della superiorità germanica cercate da Hitler lo esposero a figuracce spaventose cioè io ricordo siccome sono un grande appassionato di Tolkien io leggo il signore degli anelli almeno una volta all'anno da 40 anni ok e sono un grande appassionato di Tolkien perché amo Tolkien amo i libri di Tolkien amo le sue storie amo profondamente il modo di scrivere di Tolkien quello che Tolkien scriveva io amo profondamente quello che Tolkien scriveva perché era insomma un capolavoro sono capolavori assoluti dalla letteratura i libri di Tolkien soprattutto il signore degli anelli dicevo Himmler che allora per chi non lo sapesse Tolkien era un luminare delle antiche lingue nordiche Tolkien era la più importante autorità mondiale sulla lingua la storia la cultura e la letteratura nordica ok i suoi libri sono tuttora fondamentali per lo studio di quelle cose va bene e fu a Tolkien che si rivolse Himmler per diciamo avere conferme su alcune sue teorie a proposito della razza ariana a proposito a proposito delle della superiorità culturale germanica eccetera eccetera così Hitler scrisse le sue verbose pappardelle a Tolkien Tolkien l'esse io ve la faccio breve gli rispose brevemente senti pollivendolo torna al tuo torna al tuo pollaio e rimani lì che non capisci niente questo in pratica disse Tolkien a Himmler e o a chi per lui gli scriveva quelle lettere in cui si chiedevano conferme sulle teorie della razza ariana dell'ultima tour insomma queste cose così io mi immagino il professor Tolkien che dal suo studio ad Oxford legge quello che gli ha mandato Himmler si toglie la pipa di bocca la picchia leggermente sulla scrivania e lui cattolicissimo religiosissimo educatissimo e gli dice e dice fra sé ma che cazzo mi scrive sto tedesco cioè insomma questo qui l'inconsistenza delle teorie magiche esoteriche c'è tanto per dirne una la terra cava la teoria del ghiaccio eterno la teoria dell'implosione dei vortici cioè se ne sono sentite tante scienza pseudoscienza e vera che ammorbavano veramente il terzo Reich Galli affronta l'analisi del mondo magico mistico ed esoterico che circondava Hitler e i suoi cortigiani un libro che vi consiglio caldamente di leggere ma vi prego non avendo io come dire una ho solo un'infarinatura in materia diciamoci la verità ho solo un'infarinatura in materia di occultismo di esoterismo di magia eccetera eccetera ne so poco o niente quindi se volete leggere questo libro e conoscete e avete una conoscenza diciamo meno superficiale della mia sull'argomento è caldamente consigliato se come me siete degli scettici materialistici che come dire non potete per forma mentale cioè io lo ammetto io per forma mentale per cognizione per 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 insomma per io non mi rendo conto di come si possa credere a certe cose la teoria della terra cava la teoria del ghiaccio eterno gli atlanti di rifugiati sin tibet tutte queste cose così sinceramente ci potevo credere quando avevo 12 anni e leggevo i libri di peter colosimo ora ne ho 53 e so che quelle nel 99.9% sono cavolate eh ma 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 non avendo io cognizione cognizioni approfondite sul tema sono come dire costretto anzi non costretto lascio a voi utenti di questo canale il compito di commentare questo libro di commentare l'esoterismo nazista di dirci di dire a me e a tutti gli altri utenti che cosa era l'esoterismo nazista poi magari con i vostri commenti ci tirerò fuori un altro video a proposito del nazismo magico però ripeto il libro è interessante va letto va valutato molto 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 attentamente ripeto io probabilmente non sono la persona più adatta a parlarne quindi cari signori passo la palla a voi aspetto ripeto aspetto i vostri commenti ripeto aspetto le vostre considerazioni e il vostro aiuto su questo argomento Giorgio Galli Hitler e il nazismo magico le componenti esoteriche del Reich millenari tutto qui quindi cari signori ripeto ripeto un libro da leggere da valutare un libro che vi chiedo di analizzare con me ne sapete qualche cosa commentate ne sapete qualche cosa scrivete ho detto delle cazzate sono disponibilissimo ad ascoltare le vostre opinioni ah piccola cosa ricordatevi una cosa lo vedete questo che porto al collo questo che porto al collo non ha alcun significato religioso non ha alcun significato magico o esoterico niente di niente è un oggetto di bisotteria si tratta di un ciondolo che ricorda come forma il martello di Thor che ha inciso al centro il simbolo di le corne di cervo di Cernunnos e alla testa di Fenrir è un oggetto di bisotteria né più né meno che mi è stato regalato molti anni fa da una da una persona che da una persona che conoscevo da un amico che conoscevo ripeto cari signori io aspetto le vostre considerazioni su questo libro in modo io stesso da capirne un po' di più ok quindi vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e come sempre arrivederci al mio prossimo video ciao ciao